salve amici del centro medio italiano abbiamo utilizzato un titolo simile al celebre film di billy wilder per annunciare guai in vista per l'estate 2020 con l'arrivo di una vasta saccatura atlantica che porterà di fatto la prima rottura stagionale vediamo però nel dettaglio tutti i passaggi che ci porteranno ad essa nelle prossime ore un cavo d'ondai stabile porterà ancora una volta forti temporali su gran parte delle regioni italiane con fenomeni fin verso i settori costieri e possibili nubi fraggi associati tra domani e giovedì è atteso un generale miglioramento del tempo grazie ad una temporanea rimonta dell'anticiclone che porterà di nuovo le temperature sopra la media del periodo attenzione però ai movimenti attesi nel fine settimana secondo gli ultimi aggiornamenti un affondo meridiano quello che vedete alle mie spalle potrebbe riversarsi sull'europa portando condizioni di maltempo diffuso attenzione anche all'area mediterranea e di conseguenza alla nostra penisola dove potrebbero pertanto avere origine fenomeni molto intensi ed un generale calo delle temperature associate trattandosi comunque di una tendenza vi ricordiamo come sempre di seguire sia il nostro sito che il nostro canale youtube un saluto da parte del centro meteo italiano a parte del centro meteo italiano a parte del centro meteo italiano a parte del centro meteo italiano